I rumors confermano che c'è di nuovo fibrillazione nel centro-destra di Arezzo. Non bastavano le bizze dei consiglieri di Forza Italia e le assenze improvvise di alcuni rappresentanti che in passato anche recente hanno costretto spesso il presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella, a ritirare pratiche che necessitavano il passaggio dall'Aula. Che torna a riaffacciarsi la questione legata al consigliere egiziano Andreani, storico rappresentante del Carroccio che ha portato negli anni 90 la Lega nell'Aula di Palazzo Cavallo. Da un anno e mezzo Andreani ha aperto una sorta di stato di agitazione con la giunta Chinelli e spesso non ha nascosto il suo malumore politico nei confronti delle scelte proposte dalla squadra di governo cittadino. Bossiano, della prima ora, Andreani non ha mai avuto un grande feeling con il salvinismo che ha dominato il partito da dieci anni a questa parte. Con il sindaco polemizzò sulla questione legata al rapporto migranti fraternita che proprio quattro anni fa fu al centro di un contenzioso politico. Nell'ultime sedute spesso toglie il disturbo in anticipo e non di rado la maggioranza non ha più i numeri per deliberare. In settimana sono state preannunciate delle grosse novità.